Salsa Caribe Dance E la tecnica che riguarda la donna Passo la parola alla Loretta per la spiegazione Ok, andiamo a vedere quindi la nostra vuelta a sinistra Una vuelta sempre un pochino più complicata Però piano piano ce la faremo Per quanto riguarda la donna Sempre i suoi primi tre passi basici della sua base mambo Quindi 1, 2 e 3 Al tempo 5 avanti Al tempo 6 batteremo il nostro piede destro sul posto E al tempo 7 un mezzo giro verso sinistra Dando la schiena, se sono in coppia, logicamente all'uomo Al tempo 1 torno di nuovo frontale E termino con la mia base 2, 3, 5, 6, 7 Andiamo a vedere per quanto riguarda invece i passi dell'uomo Che sono per i passi dell'uomo Partenza sempre di sinistro Quindi 1, 2 sul posto 3 mi giro 5 avanzo Perno sul destro Ritorno sul sinistro 6, 7 Quindi in buona sostanza 1, 2, 3 5, 6, 7 Per quello che riguarda invece la donna Senza spiegazione Sarà 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6 e 7 Se vogliamo Pochino di braccia per quello che riguarda la donna Qui le possiamo mettere Se stiamo ballando da sole In questo caso sarà 1, 2, 3 5, 6, 7 1, 2, 3 5, 6, 7 Eseguiamo anche Dall'altra parte Ci giriamo Quindi partirò sempre la donna Quindi 1, 2, 3 5, 6 7 1, 2, 3 5, 6 6 e 7 L'uomo Per l'uomo 1, 2 3 5, 6 7 Base 3 5, 6 7 Ok Provatele Mi raccomando donne Provate anche a metterci un pochino le braccia So che non sarà facile Ma provateci Grazie E al prossimo giro Alla prossima Ciao 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 Ciao